E ragazzi, finisce qui Milan-Roma, titolo finché perde Murigno, a me va bene. Peccato, lo dico sempre ragazzi, ogni volta che Milan gioca con la Roma o la Lazio, io non ho motivo di farmi stare sul culo a Roma, solo che poi vedi Lukaku, Dybala e Murigno e non possono non starti sul culo. Comunque, parliamo della partita. Abbiamo rischiato di fare come l'anno scorso. Abbiamo rischiato tanto in una partita che, come l'anno scorso, abbiamo dominato dall'inizio alla fine con un rigore stupido causato sempre da Calabria. Sono sempre i terzini a causa dei rigori. Beh, non male, nel finale c'è stata questa seggiata di Teo che tocca la traversa e va in rete che fissa il risultato esattamente come due anni fa sul 3-1. Due anni fa Zlatan si cagò il rigore del 4-1, se no si parlava di un altro risultato. Vabbè, poi. Alla fine è sempre importante fare tre punti. Partita, ripeto, non è che mi aspettassi tanto da questa Roma, mi dispiace dirlo. Io non parlo mai male degli avversari, ma questa Roma, ragazzi, è messa male. È messa male, mi dispiace, perché c'ha un potenziale che è assurdo. Questa Roma, ragazzi, lo vediamo anche, perché dopo il rigore, cioè, tra l'azione che ha portato a rigore e il gol del 3-1 di Ternandez, era una Roma che poteva far male. Poi vabbè che noi quando le squadre cominciano a pressare un pochino non ci capiamo più niente. E le squadre che ci pressano 90 minuti ce ne fanno 5. Però, tolto quello, è una Roma che, secondo me, se spingesse con la stessa intensità, come ha fatto anche sul finale della partita con la Lazio, potrebbe portare a casa qualche risultato in più. Il problema è che 70 minuti la partita dorme e poi i risultati sono questi. Partita che nel primo tempo poteva finire tranquillamente 2-0, tranquillamente, anche se ripetuto tranquillamente in questi cazzi. Troviamo il vantaggio col primo gol di Adli, che in realtà ci ha messo anche pochi minuti a farlo. Pensate a quanti mille minuti ha fatto Krunic al posto suo ogni volta che ci penso mi viene la rabbia. Adli ho sempre detto che magari il livello di velocità non è il giocatore più veloce e deve lavorarci, ma con i piedi è veramente un fenomeno. Si è visto anche per la sventagliata che ha portato all'assist di Kier per il gol di 2-0 di giro. Fallo che non c'era, quindi i primi che si lamentano veramente siete dei pagliacci. Rigore poi netto per la Roma, ma inutile perché abbiamo un totale controllo. Azione che non sarebbe mai finita in gol e poi arriva questo 3-1. Partita buona perché alla fine contro la Roma diciamo così remissiva non è che bisognasse fare questa partita proprio eccelsa. Tolto il giocatore, non lo voglio nomiare, lo chiamo solamente il giocatore più pagato della squadra. Che potrebbe dare 100 e da 0,5. Quello è il problema. Giocatore che veramente ha un'esplosività assurda, ma... E lo annulla... Chi era? Olm. Oggi l'ha annullato Selic. Si fa annullare un po' da tutti. Io dico sempre che dall'infortuno si deve ancora un po' riprendere perché insomma quando si è fuori un mese e si è abituato a giocare a certi ritmi poi ti devi riprendere. E il fatto che abbiamo tutti questi infortuni muscolari non è un caso. Del resto, ripeto, la Roma ci ha un po' lasciato fare quello che volevamo. È brutto da dire, ma purtroppo è vero. L'abbiamo lasciato anche noi fare un gol. Forse era il modo per ringraziarli perché forse... A quello... A quello abbiamo... Vabbè, ci avete fatto fare la nostra partita, va bene. Per ringraziare tutti facciamo fare un gol, forse... L'hanno pensata così. E comunque la cosa grave è che è il secondo rigore concesso in due partite. Questa è molto grave. Secondo rigore concesso contro, tra l'altro due rigori... Per me è netti. Io ne parlavo anche con alcuni live, ritornando su rigore di Minna Atalanta. Voglio veramente aprire e chiudere una parentesi su che non voglio più tornare su... Il rigore è netto, ma la mossa è stupida. Cioè, quel giocatore lo deve accompagnare sul fondo e non provare a stenderlo. Quello, se si prende il rigore, si prende il rigore. Magari figlio dell'inesperienza di Jimenez ci sta, ragazzi. Non voglio condannare questo. Comunque, tornando a oggi. Buono che sia rientrato Okafor, sicuramente. Io spero, Pioli... Pioli. Li faccio fare qualche minuto in più perché... Secondo me questo ragazzo se lo merita qualche minuto in più. Visto che Leao è veramente... Anonimo, quasi. È anonimo. E ce la fare attenzione perché la prossima è... A Udine. E a Udine, ragazzi... Tireremo delle belle somme perché Udine è un campo molto tosto. Non bisogna dare per scontata la vittoria di Udine. Poiché è già due o tre anni che non arriva. E ne sappiamo qualcosa. Detto questo, ragazzi, vi do veramente breve stasera perché questa partita è stata... Non dico soporifera, ma... Sì, ok, si è vinto, ma non c'è veramente tanto da dire. Una squadra a remissima contro una squadra che è in cerca di certezze, che finché ha questo allenatore in panchina non trova... E forse mai la troverà. Fino a che lui si siede sulla panchina. E quindi poi arrivano... Arrivano questi video che noi analizziamo la partita, ma poi non c'è più di tanto da chiacchierare. Ci sarà da chiacchierare, secondo me, per Udinese e Milan. Quello tenetevelo stretto. Da dire tutto. Alla prossima, bacione. Ci vediamo. Lasciate un like, iscrivetevi e seguitemi. Soprattutto. Soprattutto.